Marta arrivava ogni mattina esattamente due ore prima che il pub aprisse. Poi mi seguiva tutto il giorno in giro per il pub, parlando all'infinito del nostro futuro. Ci ho riflettuto a lungo e la mia risposta è sì. Sì, a cosa? Figli, matrimonio, il pacchetto completo. Non ho mai parlato di matrimonio. Ovunque mi voltassi, lei sembrava esserci. Spuntava nei momenti più inopportuni per parlare del nostro futuro insieme. Il giorno del matrimonio, come avremmo chiamato i nostri figli. Se ci sbrighiamo potrei farne addirittura tre. Ho anche pensato a come chiamarli. Quell'immagine mi inorridiva quasi quanti nomi che aveva scelto. Cercai di prendere le distanze. Grazie. Ma lei perseverava con lo stesso impassibile impegno.